Partito, tu sei partito? Partito! Partito, tu sei? La N? La N con il noncelo. Non c'è. Cos'è Genau? Ti chiami anche Genau? Sì, è più bello. Genau meravigliau! Ma quanti anni ha la zia? Lei non sa esattamente quanti anni ha. Sto dicendo che ha 40 anni. Lui lo stia dicendo da 80 anni. E lui quanto ha detto? Sto dicendo da 50 anni. Da 50 anni a 80 anni diciamo che ha la zia. E nel programma? Raíces. Si. Metto i radici, tre parentesi, raíces. Con la i, con la j? No, no, raíces. Ah, così, raíces. Ok. Del canale. Il canale di television. Italiano. Ok, punto a capo. Stai benissimo. Si. Guardo qui. Sembra un figurino. Suci, ma ragazzi. Che Q è? Con la Q. Si. Quando vediamo su un lugar, un pito per fare una toma, separa. Si. Che volevamo dire? E... Oh! Allora. Che c'è? Ahahahah! Non è mai spazzesco che un piri? No, non è mai spazzesco. Guarda invece quello, sono i draghioli! Ma c'è? Mi invio, eh! Vai! Vado! 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 Adesso mi torno indietro, divento sbagliato. Vado a cercare questo posto che vende Katakala, che è questo anice, il distillato di anice. È una bevanda alcolica. E la sorella di mia nonna vendeva proprio questo, questa bevanda. È l'unico indizio che ho. Ehi! Ecco, vedi? Vedi? Sì! Ma tanto scorregano comunque! Le ciabattine! Non è la ciabattina! Tu andavi sempre con le ciabattine? No! E scalza! Ah, proprio scalza? Sì! 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 È elefante! Dai che forse ci viene anche il penicotto! Sì! Da grande farò... Farò il cotone! Alla fine com'è andata nella miniera? Bene! Benissimo! Talmente bene che ci sia neanche andare!